Grazie per il vostro lavoro molto appassionato e molto consistente durante la giornata. Adesso siamo arrivati alla conclusione dove appunto esponiamo quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo concluso e lo facciamo in una registrazione che poi sarà messa online sul canale di Singularity You Milan. Lo faremo attraverso l'esposizione del lavoro di ognuno dei quattro gruppi e prima di passare a quell'esposizione che sarà sempre molto concisa, chiamo Mara per riassumere un po' quello che è stato il lavoro della giornata e la metodologia e gli obiettivi anche per la telecamera. Di nuovo grazie per essere stati qui con noi per la giornata perché è stata dura cercare di ragionare sul futuro dell'Italia insieme. Per chi ci segue dal web, io sono Maria Liberardo, sono in rappresentanza del nuovo italiano del Millennium Project che è un think tank di esperti e professionisti sparsi in tutto il mondo che cerca di analizzare il futuro, il futuro al fine di migliorare la condizione dell'umanità. L'idea è stata quella di, dalla fine degli anni 90, di creare questo network di esperti che provengono da diversi campi per cercare di mettere a sistema un collettivo di persone che ragionasse sul futuro, di modo che, dato che il futuro è adesso, si potessero prendere, analizzando ciò che verrà, decisioni migliori oggi. Gli output soliti del Millennium Project, o comunque quelli a cui siamo arrivati adesso, sono un Global Future Intelligent System che è una piattaforma online che mette in sistema letteratura, metodologie, persone, dati per lo studio del futuro. Poi abbiamo lo State of the Future che viene aggiornato di volta in volta a stampa anno per anno, comunque sul sistema continuamente, in cui si fa un report sullo stato globale del pianeta, secondo diversi punti di vista. Future Research Methodology 3.0 che è un compendio delle principali, della principale metodologia per lo studio del futuro, sia essa soggettiva, sia essa oggettiva, e anche studi specifici su diversi temi, su determinati temi. Il Millennium Project si compone di 52 nodi sparsi in tutto il mondo. C'è anche l'Italia con varie vicissitudini nel corso degli anni e speriamo di poter rivitalizzare questo nodo anche in base all'utilizzo degli output che sono venuti fuori da questo incontro. E appunto per tornare all'incontro, oggi siamo partiti da uno studio che è stato fatto dal Millennium Project con il supporto di tutti i nodi sparsi a livello globale, che ha analizzato il futuro del lavoro e della tecnologia al 2050. Questo studio tenta di definire delle direzioni che sta prendendo il nostro pianeta appunto al 2050 ed è derivato dalla consultazione di oltre 450 esperti, futuristi, esperti del lavoro, esperti della tecnologia, che nel corso di un'applicazione real-time Delphi hanno messo insieme dal punto di vista, dopo aver effettuato un'analisi della letteratura e degli scenari esistenti rispetto all'argomento, per definire ciò a cui sta andando in quanto l'umanità. È uno studio che ha fornito tre scenari globali alternativi, ovvero se capita un scenario non succede l'altro e così via, ed è diverso dal solito perché cerca di dare risposte a quei siti che nella letteratura non hanno ancora trovato una risposta, anzitutto internazionale, quindi mette insieme pareri da, come abbiamo detto, 450 futuristi e poi considera non un tema o due temi relativi al lavoro e alla tecnologia, ma una serie di innovazioni tecnologiche che verranno o che sono già in corso, in fase di definizione. E il fatto che questi scenari siano organizzati nel 2050 permette anche di capire le conseguenze, quali possono essere le conseguenze primarie, ma anche secondarie e terziarie rispetto a determinate decisioni che vanno prese oggi. Lo scenario 1 è una via di mezzo tra gli altri due, si compone di una capacità decisionale a tratti intelligente, a tratti non intelligente, analizza relativamente l'impatto che alcune tecnologie possono avere rispetto all'andamento dell'umanità e vede quindi una risposta di del potere decisionale non totalmente adeguata a ciò che poi in realtà succede nel corso dell'evoluzione umana. Quindi questo scenario visualizza l'umanità come un insieme di mega corporazioni e governi che si trovano immersi in una realtà multiporale e virtuale. Il secondo scenario è più negativo e prevede la possibilità che avvenga una desolazione umana, ovvero i governi in questo scenario non sono stati capaci di anticipare e prevenire ciò che sarebbe successo nell'umanità e quindi ci si ritrova in un forte disordine politico e in un isolamento dei vari stati in azione nei confronti degli altri. Quindi appunto non c'è stata una capacità strategica in questo scenario di anticipare ciò che stava per succedere e il disordine politico e sociale che ne deriva è molto forte e getta la popolazione nella risperazione. L'ultimo scenario più positivo prevede la possibilità che si verifichi ciò che viene definito nello scenario self-actualization, ovvero autorealizzazione del soggetto rispetto alle proprie inclinazioni e rispetto al miglioramento delle proprie skill. Quindi in questo scenario si ipotizza che i governi attrino una capacità decisionale strategica che quindi prevedono gli impatti di determinate nuove tecnologie rispetto al tema del lavoro che stiamo analizzando e riescano anche ad inserire dei sistemi di redditi di base per supportare le persone, supportare la disoccupazione e l'inoccupazione dilaganti nella società di modo che l'individuo avendo questi sistemi di protezione possa realizzare se stesso. Detto in breve, i scenari poi saranno disponibili in rete nei prossimi mesi. Diciamo che questi scenari sono possibili sono possibili e proprio il fatto che ci mettano di fronte a ciò che potrebbe essere rispetto alla capacità di anticipare impatti e prendere decisioni oggi ci ha portato a ragionare sul futuro dell'Italia con questo punto di riferimento globale. Quindi oggi siamo ritrovati qui esperti di tecnologie, esperti di lavoro, esperti di futuro o anche solo semplici appassionati ci siamo ritrovati a ragionare per temi che influenzano il tema globale World Technology. Tanto per capire dove sta andando l'Italia e dove dovrebbe andare, quali strategie dovrebbe applicare per arrivare verso un futuro desiderato. L'obiettivo alla fine del lavoro è sicuramente stato raggiunto, è stato quello di sviluppare discussioni, cominciare a parlare di futuro, cominciare a parlare di pianificazione strategica, anticipazione sia degli impatti, dei problemi e prendere decisioni proprio in base a ciò che potrebbe essere. Il gruppo di lavoro formato da Living Project e Singularity ha cercato di definire dei sottotemi traccia di interesse rispetto a World Technology e quindi si è diviso, secondo una metodologia definita Charrette, in quattro sottogruppi che hanno analizzato puntualmente educazione, apprendimento e cultura per capire quali strategie si dovrebbero attuare in Italia per auspicare un determinato tipo di cambiamento. Poi lo vedremo meglio con i relatori di ogni gruppo. Governo per capire che cosa devono fare i governi per poter far fronte all'attuale disoccupazione ma alla futura inoccupazione che se non si prendono decisioni oggi probabilmente caratterizzeranno la nostra società. Scienza e tecnologia, cosa deve fare l'Italia sia per capire ma anche per cavalcare l'onda del cambiamento tecnologico in corso adesso e che sarà molto forte e determinante nei prossimi decenni? A fare il lavoro, sicuramente il business and work sono temi che vanno trattati a parte, bisogna capire come ridefinire il ruolo del lavoratore, come ridefinire il ruolo del lavoro, che cosa bisogna fare in Italia rispetto a ciò. Abbiamo utilizzato un metodo che è definito Charrette, che prevede un meeting in plenaria e poi una discussione di circa un'ora in sottogruppi, poi di nuovo un meeting in plenaria per condividere questi temi che sono alla fine interrelati l'uno all'altro perché le decisioni che si prendono in uno possono influire sulle decisioni che si prenderanno negli altri campi tematici. Di nuovo discussione di sottogruppi, di nuovo seduta plenaria fino ad arrivare al punto in cui siamo adesso, cioè la relazione rispetto a quali sono, secondo le persone che sono presenti qui, le strategie che dovrebbe attuare l'Italia nei prossimi 5, 15 e 34 anni, ovvero fino al 2050, rispetto ad una previsione di ciò che sarà del nostro Paese nei prossimi anni. Io ringrazio tutti i presenti perché è stata una giornata ricca di spunti molto interessante e spero di poter mettere a disposizione anche di altre persone che vorranno intervenire sul tema gli output di questa giornata. Quindi grazie ancora per aver partecipato e contattatemi per qualsiasi necessità. Grazie, grazie Laura. Qual è l'ordine in cui vogliamo vedere il gruppo? Direi che possiamo utilizzare quanto presenti qui, quindi partire con l'educazione e l'attività di cultura. Ok, il gruppo di educazione, chi espone i risultati? Quanto tempo? Sempre 5 minuti. Non abbiamo un dibattito in telecamera perché verrebbe un po' più difficoltoso e quindi esponete per 5 minuti. Darò io il time out. Ok, intanto grazie a Mara, a tutti quelli che erano nel nostro gruppetto di lavoro, è stato veramente interessantissimo e qua non direi non tutto quello che ci siamo detti, ma alcuni highlights. E una prima considerazione è sul fatto che education and culture nel gruppo a livello di, proprio come consenso, li vediamo come un enabler che fa sì che la tecnologia possa avere un esito più o meno virtuoso, più o meno, diciamo, positivo. E quindi non è che ci sia un primato della cultura sulla tecnologia, sulla tecnologia, sull'education, sui learning e sulla cultura, ma sono due cose che vanno di pari passo e anzi ci sono numerosissime situazioni in cui, anzi forse sempre, quello che riusciamo a fare sul fronte education, cultura, learning a un enabler che è dato dalla tecnologia che diventa un fattore di accelerazione e diffusione, eccetera, come sta già accadendo. I tre scenari, il primo l'abbiamo un po' rinominato business as usual, il secondo distopico, ci spaventa un po' tutti e quindi come facciamo a indirizzare education e learning in modo tale da attendere il più possibile in una configurazione che è sintetizzata dal terzo scenario. E abbiamo dotato un approccio di backcasting che è molto utile in una situazione complessa. Abbiamo immaginato di essere già nel 2050 che si fosse, che si sia realizzato completamente il terzo scenario o qualcosa di molto simile a quello, quindi dove abbiamo risolto problemi, grandi sfide, eccetera, e abbiamo ripensato, guardando indietro, a cosa avrebbe dovuto fare l'Italia, a cosa avrebbe potuto accadere, a cosa possiamo fare per progredire in questa direzione. E qui abbiamo buttato giù una serie di spunti di possibili azioni, o non so se chiamarle strategie, a volte ho visto tra strategie e azioni. Una prima cosa è una, l'abbiamo chiamata una campagna di mass awareness, quindi vediamo che c'è un gap proprio di informazione, di conoscenza, di competenze enorme. Sono pochissime persone, pochissime organizzazioni che si rendono conto di cosa sta succedendo, di come la tecnologia sta accelerando, quindi di quanto sia fondamentale avere da un lato un minimo di comprensione e dall'altro prendere decisioni sulla base di elementi che siano fondati su quello che sta accadendo. Abbiamo immaginato che in questa campagna, più che le scuole, le istituzioni eccetera, devono essere coinvolte delle persone che hanno una vasta audience, diciamo delle celebrities, persone che hanno una grande visibilità o in televisione, al cinema, pop star, attori, quindi persone che vengono immediatamente riconosciute e che in un modo o nell'altro abbiano già manifestato un'attenzione, una sensibilità per questi temi. E quindi chiamarli a raccolta, magari fargli leggere gli scenari e dire ragazzi, questo è quello che va a accadere, 450 esperti in tutto il mondo convergono su queste possibili direzioni, come possiamo fare a diffondere il messaggio? Quindi usare la loro, usare, diciamo, far leva sulla loro visibilità e sulla loro capacità di parlare con la gente per suscitare un dibattito. Questo da fare anche a brevissimo termine entro quest'anno o entro un anno da ora. Abbiamo parlato di avvicinamento tra aziende giovani, non parliamo di aziende scuola, ma aziende e persone, diciamo, di sotto di 18 anni e qui creare tutte le occasioni possibili per coinvolgere i giovani nelle aziende e le aziende da relazionarsi con i giovani. Sappiamo che ci sono ostacoli burocratici di varia natura per cui bisogna trovare il modo di superarli, però vediamo indispensabile questo avvicinamento da subito. E quindi anche promuovere l'imprenditorialità in tutte le sue forme, dove per imprenditorialità si pensa di default a una connotazione in team, quindi un lavoro di squadra, nessuno può essere imprenditore da solo, o è difficilissimo farlo. E quindi questo può essere fatto con un'organizzazione esistente, con l'università, con le aziende e con tantissime iniziative, non so, incubatori eccetera, che già si stanno muovendo in questa direzione. Abbiamo pensato anche dei pilot, vediamo molto difficile incidere a breve termine sul sistema educativo esistente, però dei pilot che coinvolgano, che attivino dei modelli di scuola alternativi, sul modello di out school, ad esempio in California. Abbiamo anche parlato di sperimentare nel concreto dei pilot sul reddito di cittadinanza, magari andando a toccare quelle municipalità, quei comuni, che nei programmi elettorali hanno già spinto in questa direzione. E quindi adesso andare a dire facciamolo davvero. Andando più avanti nel tempo, abbiamo pensato ad attivare dei sistemi di virtual coaching tra senior, anziani, pensionati e giovani, quindi incentivare il più possibile questo tipo di scambio. Un minuto, ok? Abbiamo parlato poi di ridefinire proprio gli orari scolastici, pensando di comprimere il numero a livello di scuola per dare l'opportunità a chi è nelle scuole di sperimentare tutta una serie di altre possibilità, e quindi questo povere innumeremo le ricadute. Abbiamo considerato come default il fatto che ci sia un'educazione che va da una direzione di un senso civico, di sharing, di community, di responsabilità condivisa, quindi valori che devono essere permeanti in una cultura, in una società del futuro. Poi immaginiamo, andando sempre più avanti, che non esisterà più un divide tra education e vita normale, sarà un continuum praticamente senza interruzione. Abbiamo anche immaginato che tra pubblico e privato ci sarà una forte espansione di una configurazione di benefit corporation come le old school o laureate o singolarity university che si avvicineranno sempre di più a quelle che sono le funzioni del pubblico, mentre il pubblico andrà contaminandosi sempre di più con gli aspetti virtuosi di un privato e quindi ci sarà una crescita di entrambe queste macro-categorie. Quindi questa è in estrema sintesi alcuni spunti di direzioni strategiche per cultura, educazione e apprendimento. Grazie. Noi come gruppo governo abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione sulle risorse, abbiamo anzitutto cercato di capire appunto come, dove reperire. La prima idea è stata quella della demonetizzazione in completo, per cui abbiamo capito di eliminare il contante e di permettere l'immersione della cosiddetta economia sommersa. Il secondo punto invece è quello di stipulare degli accordi internazionali che permettono anche qui il recupero dell'imponibile derivante dall'economia sommersa. Queste risorse, l'idea è quella di investirle in infrastrutture che permettano quanto più possibile un accesso più ampio alla tecnologia. Questo ovviamente viene fatto tramite gli investimenti che sono sia pubblici sia privati. L'idea è quella di attrarli cercando di dare degli incentivi fiscali e anche ovviamente a meno delle persone informate. Infatti l'idea successiva è quella di dare dei voucher di formazione che permettano alle persone di scegliere dove specializzarsi e che sono dei voucher pagati dal governo a favore degli enti che poi organizzano queste attività di formazione. L'idea poi è anche quella che nel lungo periodo, nell'arco di 15 anni, ci sia anche la possibilità di ridurre i costi dello Stato e quindi di permettere che, ad esempio, al fronte di avere dei costi minori sullo Stato si possa continuare a investire nell'innovazione. Infine, che è poi anche il problema maggiore, la minimizzazione dell'impatto sociale dovuta alle preoccupazioni. In questo caso noi il gruppo ha pensato che nei primi 15 anni ci sia una rete sociale che è quella della famiglia che permette un po' di assorbire tutta quella che è la crisi sociale grazie anche al patrimonio significativo di cui dispongono ad oggi le famiglie italiane e l'idea però è che poi dal 15esimo anno si riesca, grazie alle risorse derivanti appunto dal recupero dell'imponibile derivante dall'evasione fiscale e anche dalla riduzione dei costi che la tecnologia permette di consentire un reddito globale che permetta appunto da un lato alle persone di poter gestire la propria vita, di scegliere dove vogliono inserirsi, in quale settore vogliono specializzarsi e anche permetta l'eliminazione della pensione dato che le persone saranno produttive diciamo fino alla fine. Perfetto, grazie. Per quanto riguarda il gruppo di tecnologia esponiamo in tre, sempre cinque minuti. Sono il protagonista. Ok, come gruppo tecnologia abbiamo individuato tre macro temi di particolare interesse per lo sviluppo diciamo della tecnologia e delle tecnologie esponenziali in Italia all'interno di un quadro come dire un po' più ampio di tecnologie abilitanti a questo e all'interno ancora di come dire un framework mentale e logico che vi proporremo. Le tre tecnologie a cui abbiamo pensato sono affinetti a mobilità, biotech e food e alle energie rinnovabili. Sono tre temi per certi versi anche molto italiani. La mobilità attiene molto alla geografia dell'Italia che è un paese piccolo ma molto particolare nella conformazione. Ci si propone quindi di rendere la mobilità come un vero e proprio strumento attraverso dei vettori di merci e di persone completamente automatici e intelligenti che rendano molto più semplice lo spostamento delle merci e delle persone sul territorio nazionale e ovviamente non solo. Biotech e food, due aspetti tangenti tra di loro, entrambi servono a migliorare la qualità della vita. La prima parte quindi quella delle biotecnologie per quanto riguarda le persone soprattutto gli anziani, in Italia abbiamo storicamente questo problema. La parte del food potrebbe essere, le tecnologie applicate a questo, il fattore abilitante per il nostro settore agroalimentare. E infine la parte delle energie rinnovabili dove il consumo e l'utilizzo dell'energia pro capite diventa veramente fattore abilitante di ognuno e soprattutto decentralizza la gestione di ognuno di noi. Allora, Simone ci ha spiegato quelle che sono le tecnologie che possono maggiormente impattare positivamente lo sviluppo dell'Italia come economia e come società. Diciamo che rispetto a queste tre filoni tecnologici che ha indicato ci sono poi delle tecnologie trasversali abilitanti che sono in particolar modo l'intelligenza artificiale e la robotica. Cioè sia nel campo dell'autonomous driving, sia nel campo del biotech, sia nel campo delle rinnovabili, l'intelligenza artificiale e la robotica avranno un ruolo importante per accelerare la diffusione e l'adozione di queste tecnologie. Immaginiamo ovviamente, è molto chiaro l'esempio dell'intelligenza artificiale applicata sulle vetture autonome, ma immaginiamo anche i robot che sono già fortemente presenti nelle fabbriche italiane, ma che saranno probabilmente sempre più presenti nelle case degli italiani, quindi ad uso domestico, ad uso privato, per esempio per l'assistenza agli anziani o negli ospedali o in tanti altri tipi di applicazioni non solo industriali ma anche appunto per i privati. E questo sempre più importante in un paese che ovviamente ha una età media avanzata e dove uno degli obiettivi è quello di aumentare la longevità delle persone. Chiaramente queste tecnologie, l'intelligenza artificiale e la robotica già oggi cominciano a sollevare un dibattito delle questioni che hanno la base una questione morale sulla quale David ci racconterà meglio. Nello scenario del 2050 è facile immaginare come praticamente tutti gli oggetti del nostro mondo tecnologico abbiano un contenuto di intelligenza, perché il costo incrementale di includere questo sarà estremamente ridotto rispetto al vantaggio che comporta di dotarli di tale intelligenza. Se non che oggi manchiamo della capacità di analizzare le conseguenze dell'autonomia di questi oggetti e lo saranno necessariamente perché la loro numerosità eccederà di diversi ordini di grandezza a quello delle persone. Non è che non le controlleremo ma delegheremo loro decisioni importanti sulla nostra vita. Come queste decisioni avverranno non può esclusivamente delegato ad una implementazione, ad una ingegnerizzazione delle scelte morali, deve necessariamente essere preceduto da una analisi e una invenzione di fatto di quella che è la scienza della moralità. E in particolare l'Italia che per letteralmente millenni è stato visto in una gran parte del mondo come uno dei centri del pensiero e dell'evoluzione del pensiero generale ha l'opportunità di fare un percorso analogo per il ventunesimo secolo con urgenza dove una conversazione aperta ed inclusiva è necessaria già oggi affinché la traiettoria del percorso di questa evoluzione tecnologica sia sana, sia affidabile, sia trasparente. Ed è questa la nostra provocazione, questo è il nostro invito ed è questo lo specifico valore che l'Italia può portare anche a livello mondiale. Grazie. 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 Riccardo Snelli, io ringrazio tutti i colleghi con cui ho avuto la possibilità di lavorare per il contributo che hanno dato e adesso cercheremo di portare un po' nel nostro viaggio nel futuro. Noi in realtà abbiamo utilizzato come metodologia molto base l'ESIS, dove siamo oggi e poi abbiamo pensato dove potremo essere domani. Per cui dove siamo oggi ci siamo concentrati su alcune tematiche. Prima di tutto, pensiamo che nei prossimi anni, quindi in un arco di cinque anni più o meno, il nostro focus dovrà sempre essere più spostato sulle tematiche di economia reale piuttosto che sulle tematiche di economia finanziaria, anche perché questo dà il giusto ordine di grandezza di quello che è il ciclo produttivo che noi potremo affrontare a livello di lavoro e di business. In uno scenario comunque vicino dovremo cercare di sganciare sempre di più l'identità individuale dall'identità aziendale, perché il valore dovrà essere sempre più focalizzato sull'individuo come centro del progetto professionale. E in questo tema una delle grandissime sfide sarà quella dell'active aging, quindi capire come nel futuro le risorse, soprattutto per 50, potranno affrontare questo mercato di lavoro perché l'Italia è un paese che indecchia e questo è un dato indubitabile. Legato a questo ci sono proprio le tematiche anche di welfare che saranno importantissime per le tematiche di lavoro di domani e che dovranno essere sostenute, diciamo anche dal punto di vista pubblico ma anche privato da parte delle aziende. Proprio per questo è fondamentale che nei prossimi anni, speriamo ravvicinati, quindi in un altro magari di 5 anni, si possa pensare a una maggiore integrazione tra governo, azienda e persone. Questo diciamo oggi avviene per esempio in un settore importantissimo che è lo sviluppo delle tematiche di smart working che comunque consente a molte persone, magari appartenenti anche a categorie più deboli come donne, anziani o disabili, lavorare da casa mantenendo la propria produttività. Facendo un saldo temporale di una decina d'anni, quindi pensiamo a un anno di 31, dovremmo pensare a delle aziende che abbiano attività automatizzate, noi abbiamo ipotizzato almeno un 40% delle attività totalmente automatizzate, quindi grazie anche ad assunzioni definitive di paradigma di smart working e questo potrebbe liberare risorse molto spesso legate ai posti del personale, quindi all'head count, per investirli in tematiche di benessere e di work-life balance. Proprio per questo domani sarà molto molto importante anche gestire le aziende come dei network professionali, quindi pensare a delle forme giuridiche anche smart che possano unire aziende e professionisti per raggiungere progetti e competere anche a livello globale. Questo significa avere un focus su attività produttive ma anche istruzioni, si dovranno fondere sempre di più e dobbiamo pensare che domani il welfare secondario, quindi quello legato alle aziende, potrà sempre più essere sostenuto a rispetto della parte pubblica e quindi potrà avere così più risorse da occupare per i cittadini. Su queste tematiche facciamo uno shift temporale e andiamo al nostro ultimo scenario, quello del 2050, in cui pensiamo ad aziende quasi totalmente automatizzate in cui le risorse potranno essere dedicate alle persone in uno scenario in cui il benessere, quindi il welfare, sarà sempre più sganciato dal reddito e darà, diciamo così, adito un po' quello che abbiamo definito nel nostro gruppo come libero abito e professionale, quindi la libertà di scegliere il nostro destino, che potrà essere di fare tutto o di fare niente, però sarà una scelta libera ed individuale. Per fare questo pensiamo che associazioni di categoria nel 2050 probabilmente si occuparanno più di persone che non di impuse e probabilmente potranno essere focalizzati sui bisogni individuali e del territorio, inteso come anche ecosistema, quindi al mantenimento anche di tutto quello che è la salute e l'equilibrio biologico dell'Italia dove ora ci siamo. Come ultimo elemento è ovvio che per mantenere un po' questo disegno bisognerà pensare ad un reddito di base che molto probabilmente andrà a sostituire un trattamento oppressionistico che come vediamo oggi, insomma, diventa sempre più difficile da sostenere. Questo è quello. Perfetto. Grazie. Sono molto contenta di risultati di questa giornata perché poi alla fine mettere insieme persone, idee, ambienti diverse, è sempre un po' una scommessa. Tante idee interessanti che sicuramente forniranno lo spunto per altre idee interessanti. Quindi chiederei sia a chi sta guardando il video, sia a voi che siete stati qui, dite un'altra richiesta. No, se avete voglia, se vi va di continuare a ragionare su questi temi, benvenga a qualsiasi appunto, benvenga alla condivisione, benvenga al pensiero critico su ciò che sarà e su ciò che dobbiamo fare adesso perché capire ciò che sta per succedere ci permette di migliorare il nostro futuro, prendendo decisioni migliori e più sagge. Quindi vi invito alla saggezza e vi ringrazio per aver partecipato. Grazie. Grazie.